E' fissi, oh! Basta, via, basta, via, non veniamo più con te, andiamo a casa, basta, non veniamo. Oh, mi è venuto su anche sul Montesa dietro che voleva che lo portavo su a piedi. Che compagnia. Oh, se vuoi la puoi provare, la puoi provare se vuoi. Però l'abbiamo fatto poco, dai. Abbiamo fatto un cazzo. Va a vedere. Vai, vai, che tanto, scorta, saltala via, che cacchio ci fa? No, ma non questo, perché sotto qua c'è il telefono. Ma la moto è il meno il telefono. Ah, che devi fare, fatto tanto. Ma, ma, questo sarà stato lui col suo ginocchio, ma che ginocchio? Quale è il telaio, quello è il telaio, te, va il telaio del Montesa. Spampi, spampi. Abbiamo due video che sono uno spettacolo. E' presto, sono le undici e un quarto, è presto. Oggi fai in tempo a bere il vino, gargamella. Oh, non si fida, va, che bastardo, eh. Non si fida, cazzo. Oggi bevi il vino, fai in tempo. Dai, metti apposta che tiriamo a fare i bicchieri. Forza.